Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Talpress Economy, cominciamo come sempre, lo sapete con le notizie che riguardano il nostro paese, notizie contrastanti perché per fortuna diminuisce l'inflazione, però insomma un po' legata a questo fenomeno, soprattutto ne riparleremo anche oggi nel nostro focus di alzo dei tassi di interesse, frena il PIL anche se le previsioni per l'anno, il 2023, rimangono positive. Battuta d'arresto per la crescita in Italia nel secondo trimestre. Il PIL infatti registra una flessione dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi del 2023, quando aveva fatto registrare un più 0,6%. Questo risultato, secondo una stima preliminare dell'Istat, è legato a una flessione sia del settore primario, sia di quello industriale, a fronte di una moderata crescita del comparto dei servizi. Dal lato della domanda invece la flessione è dovuta alla componente nazionale all'ordo delle scorte, con quella estera netta che ha fornito un apporto nullo. In termini di variazione acquisita per il 2023, la crescita si attesta nel secondo trimestre allo 0,8%, in leggera discesa rispetto al valore del primo trimestre. PIL in frenata, ma prosegue anche il rallentamento dell'inflazione, che torna al più 6%, lo stesso livello di aprile 2022. La dinamica dell'inflazione, ancora fortemente influenzata dall'evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il calo su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati e dei servizi. Rallenta inoltre l'inflazione di fondo, che a luglio si attesta a poco più del 5%. In attenuazione per il quinto mese consecutivo anche la dinamica tendenziale del carrello della spesa, scesa a luglio al più 10%. L'aumento dei prezzi sta costringendo quasi 6 italiani su 10 a ridurre le risorse destinate allo shopping. Il 53% i consumi di energia elettrica, il 51% le spese per attività culturali e di svago, il 44% i consumi di gas. Una tendenza destinata a proseguire nell'immediato futuro, con il 57% che si vedrà costretto a ridurre o evitare le spese in divertimenti, il 52% le cene fuori e i viaggi, il 48% i prodotti in delivery, il 47% i piatti pronti. Sono queste in sintesi le principali evidenze che emergono dal report Fragilitalia, elaborato dall'area studi Lega Coop e Ipsos in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione. È comunque da evidenziare come, rispetto alla precedente rilevazione del settembre 2022, a livello medio complessivo calino rispettivamente di 10 e di 12 punti percentuali le quote di chi ha dovuto ridurre i consumi di energia elettrica e di gas. Il report contiene anche un focus dedicato agli effetti dei rincari sulla spesa alimentare, concentrandosi sulle strategie di acquisto messe in atto dalle famiglie per far fronte all'aumento dei prezzi dei prodotti. Il 51% dichiara di avere ridotto l'acquisto di prodotti superflui, il 49% di limitare gli sprechi di cibo, il 46% di acquistare soprattutto i prodotti in promozione. Nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso in linea con le previsioni, con un avanzo di 16 miliardi. Lo riferisce il MEF. Il mese di luglio 2022 si era chiuso con un avanzo di 8.401 milioni. La crescita registrata a luglio 2023 determina una minore emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine nel mese di agosto 2023. La spesa relativa agli interessi sui titoli di Stato è aumentata di 1.500 milioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel confronto con il corrispondente periodo del 2022 il saldo beneficia di un aumento degli incassi fiscali dovuti all'autoliquidazione e di una riduzione dei pagamenti cui contribuisce anche la minore spesa previdenziale che lo scorso anno risentiva del pagamento del cosiddetto bonus 200 euro ai pensionati. Si segnala tra gli incassi fiscali il versamento del contributo di solidarietà da parte delle imprese energivore per un importo di 2.801 milioni e il versamento alla bilancio dello Stato di 489 milioni per compensare i minori incassi da IVA L'Unione Europea e le Filippine rilanciano l'accordo di libero scambio. A breve sarà avviato un processo esplorativo bilaterale per valutare in che misura le due parti condividano un'intesa. Se ci sarà una conclusione positiva dopo aver consultato gli stati membri l'UE e le Filippine potrebbero riprendere i negoziati. L'accordo secondo quanto annunciato mira a essere ambizioso, moderno, equilibrato e incentrato sulla sostenibilità. Dopo la ripresa dei negoziati con la Tailandia a inizio anno questo annuncio conferma l'attenzione dell'Unione Europea nei confronti della regione indopacifica per quanto riguarda l'agenda commerciale. L'obiettivo dell'UE ora è un accordo di libero scambio globale con le Filippine che comprenda impegni in materia di accesso al mercato, procedure sanitarie e fitosanitarie rapide ed efficaci e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche. Al centro del confronto anche il tema della sostenibilità. Le relazioni commerciali con le Filippine sono già solide. L'Unione Europea è il quarto partner commerciale del paese in ordine di importanza ed è uno dei maggiori investitori nelle Filippine con uno stock di investimenti esteri diretti che nel 2021 ha superato i 13 miliardi di euro. Cresce sensibilmente in Europa l'occupazione nell'ambito sportivo. Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2022 erano un milione e mezzo le persone impiegate in questo settore, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Tra gli stati membri dell'Unione è la Svezia a primeggiare. Seguono Finlandia, Danimarca, Spagna e Francia. Le quote più basse di occupati nel settore sportivo si registrano in Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Croazia e Lituania. Tra i tipi di impiego rientrano le attività svolte in squadre e club sportivi, oltre ad allenatori, atleti indipendenti, centri fitness e attività per la promozione e la gestione di eventi. Secondo l'Ufficio Statistico Europeo, tuttavia, resta ancora un divario di genere. Ci sono più occupati uomini che donne. Inoltre, più di un terzo dei lavoratori ha un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, mentre il gruppo d'età, 30-64 anni, rappresenta il 60% di tutti i lavoratori dello sport. E uscendo dalle notizie sull'Europa, torniamo sulla notizia che abbiamo già commentato, che abbiamo dato nei nostri servizi la settimana precedente, cioè l'ennesimo rialzo dei tassi di interesse, con tutte le polemiche che ne sono seguite e con tutti i danni, possiamo dire così, oramai evidenti, che subiscono sia i cittadini che le imprese, che lo Stato medesimo, che il nostro Stato, lo ricordiamo, ha un immenso debito pubblico. A questo, se dovessimo usare una parola, un titolo che mette insieme questo focus di oggi, si aggiunge il rialzo dei prezzi della benzina, ma anche di alcune cose che noi compriamo, i cosiddetti prezzi, il paniere del cosiddetto caro vita. Allora, il rialzo, lo chiamiamo così, questo è il nostro focus oggi Giuliano Zoppis, in collegamento via Skype. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Sì, direi il rialzo è il titolo sintetico e possiamo fare un sottotitolo dicendo che è in atto una morsa tassi, prezzi. Dal mio punto di vista il rialzo dei prezzi, questa fase attuale, mi ricorda molto Claudio il passaggio dalla lira all'Euro. Vivemmo una stagione molto pesante dal punto di vista dei rincari, di tutti i prezzi, di tutti i servizi e anche adesso sostanzialmente siamo quasi di fronte a un mini fatto epocale, perché oggettivamente, anche il governo è preoccupato, magari poi ne parliamo un attimo, questo movimento a rialzo che aveva trovato sicuramente giustificazioni valide nell'aumento delle materie prime e altro, adesso oggettivamente questa giustificazione sta avvenendo meno e stiamo vivendo un momento abbastanza complicato, soprattutto in quei settori come i servizi che stanno assicurando ancora la tenuta del nostro PIL e che speriamo possa anche nel prossimo trimestre avere un risultato positivo e mi riferisco per esempio al settore del turismo, insomma qua vediamo che in qualsiasi tipo di attività, includendoci anche i trasporti e per esempio il trasporto aereo, i rincari sono fortissimi, alberghi, ristoranti, bar, servizi turistici, tutto ciò che ha a che fare e sta in qualche modo anche comprimendo l'attività in alcune regioni italiane che invece da sempre sono all'avanguardia. Ma non solo questo, l'Istat ci dice che l'infezione è vero, è scesa, ci troviamo comunque a un livello più sostenibile del 6%, però per quello che riguarda il cosiddetto carrello della spesa siamo ancora molto molto alti, in presenza di un aumento del 10%, in un anno del 12%, cosa sta facendo il governo? Sta cercando con il Ministro Urso di attivare una sorta di tavolo di concertazione, perché calmirare i prezzi non si può fare, si faceva in Unione Sovietica tanti anni fa e quindi non ci può essere un vincolo sull'aumento dei prezzi, ma ci può essere un accordo per inserire in una sorta di carrello ideale positivo alcuni prezzi, soprattutto quelli che riguardano i beni di prima necessità, l'infanzia, eccetera, eccetera. Si spera di arrivare a un accordo che faccia sì che nel trimestre ottobre-dicembre questo carrello della spesa, come dire, virtuoso possa essere applicato, però le difficoltà sono molte, perché la grande distribuzione gli dice noi magari aderiamo, poi non ci sono gli altri che aderiscono e quindi si crea uno scopo di mercato. Io ti voglio, scusate ti intropo, ma ti voglio fare una domanda, come sai noi siamo sempre molto esplicativi, ho incontrato delle persone ultimamente, anche molto semplici come lavoro, che ci seguono nelle varie televisioni che riprendono la nostra rubrica, il nostro settimanale di Italpress Economico, insomma ti ho anche citato, siete bravi perché finalmente riusciamo a comprendere un po' le cose che leggiamo tutti i giorni o sentiamo tutti i giorni o vediamo tutti i giorni e spesso ci rimangono anche oscure. Questo è il nostro compito di da scarico pedagogico, sociale, manteniamo. Allora io ti chiedo a te che sei un economista rispetto a me che sono un giornalista politico, poi vediamo anche l'aspetto politico della questione che tu hai accennato, l'approfondiamo. Ma insomma abbiamo detto la crisi delle materie prime, poi abbiamo detto la crisi dell'energia, poi abbiamo detto il cambio della geopolitica anche europea e anche mediterranea, però insomma alla fine questo rialzo dei prezzi, insomma è il libero mercato che come dici tu si può in qualche modo tamponare in dei punti ma non mutare perché altrimenti andrebbe in un altro principio economico, in un'altra governanza politica, ma ho anche speculazione perché adesso tu hai fatto l'esempio, la Puglia, regione che vive di turismo, regione bellissima che giustamente vive di turismo, insomma ha una flessione delle presenze perché i prezzi mediamente, adesso non vorrei dire perché io quelle cose me le ricordo, non mi ricordo mai dove le leggo, sono saliti intorno al 20%, ma sono saliti al 20% perché? Cioè è una specie di meccanismo quasi autodistruttivo, no? Cioè perché tu che vivi di quello, perché gli aumenti i prezzi? Perché non c'è un criterio, perché ognuno cerca di arraffare soldi? Perché noi dobbiamo anche un po' contestarla questa cosa qui, no? Scusa se faccio il populista per una volta, cioè i prezzi non aumentano solo sponte o per meccanismi di libero mercato, è come la benzina, si parte per le vacanze e in autostrada, poi dopo mi hanno letto migliaia di spiegazioni, migliaia di scuse, non è colpa mia, non è a tutte le associazioni, no, non sono io, è capito, ma io sono un italiano, prendo la macchina, va in vacanza e mi trovo la benzina che costa di più, ma perché? Me lo abbiamo spiegato. Perché Claudio, come accennavi, purtroppo in alcune situazioni c'è, non dico un mancato controllo, ma ci stanno dei meccanismi un po' perversi che si autoalimentano e addirittura sono state coniate in quest'ultimo periodo dei neologismi, adesso si parla di modo abbastanza aperto anche di inflazione climatica, cosa che onestamente a me fa sorridere, per giustificare per esempio il rincaro di tutti quegli alimentari che hanno a che fare più direttamente con l'agricoltura e per esempio è stato sottolineato come quello che è successo in Emilia Romagna abbia provocato un rincaro forte sui mercati per tutto l'ortofrutta. Ora è vero, ci sono giustificazioni, ma qua sembrano un po' le accise del vaionte, che continuano a giustificare prezzi elevati sulla benzina. Qua alcune cose si inseriscono e poi non scompaiono più. La cosa a cui accennavi te la benzina fa sorridere, adesso il gas sui mercati è molto diminuito, anche le quotazioni del petrolio sono oggettivamente sotto controllo, non si capisce. Allora la Guardia di Finanza fa sapere che controlla continuamente, ha scoperto tante irregolarità in questi primi 7 mesi, però oggettivamente ci sarebbe bisogno anche di una buona coscienza da parte di chi ha a che fare tutti i giorni con i consumatori. Anche perché, e poi veniamo anche all'altro tema di oggi, questa morsa da un lato è quella dei prezzi, dall'altro è quella dei tassi. Qui siamo in presenza di una situazione per cui stiamo già vivendo con una pensione la data del 14 settembre, che non è Natale, ma è il giorno in cui la BCE, perché la Fed lo fa il 13, deciderà su un'eventuale prossima mossa. C'è da augurarsi che questo clima nuovo che abbiamo visto, basato sostanzialmente su un linguaggio più morbido, basato anche su un criterio di neutralità, che significa sostanzialmente cosa hanno detto Lagarde e Powell, noi adesso non decideremo più extante, scusa la brutta cosa prima, ma decideremo al momento sulla base di quelli che saranno i dati disponibili. Però anche qua gli effetti, al di là di queste cose che sono tecnicamente molto complicate, ma molto basiche, perché qua si tratta di avere a che fare con i soldi della gente, con i soldi delle imprese, significano sostanzialmente che questa estate è caratterizzata da un mercato della casa fortemente negativo, con una richiesta di mutui impicchiata, con quotazioni in discesa, con forse l'unico effetto positivo che diminuiscono le quotazioni delle case e quindi dell'immobiliare, ma con mutui che ormai viaggiano al 4,5% qualunque esso sia il tipo, con un aumento della rata da un anno all'altro di oltre 300 Euro al mese, con le imprese che in questo momento non chiedono più credito, che in teoria ci sarebbe, perché i prezzi, i tassi sono quelli che sono e quindi che fanno? Stanno utilizzando la cassa accumulata a tempi del Covid e rimandano gli investimenti. È evidente che, come dice la stessa BCE, l'economia sta subendo un declino per ora non recessivo, forse anche l'effetto voluto a non avere un'economia troppo brillante che alimenti l'inflazione, però il quadro oggettivamente dell'impresa e del cittadino in quest'estate è veramente per farlo. Io ti richiederei ancora, ma il tempo è scaduto, ma lo faremo a settembre, l'abbiamo già detto, abbiamo parlato dei compiti della politica sui prezzi nel nostro paese e bisogna parlare dei compiti della politica nella dialettica con la BCE, considerata la sua indipendenza, anche stamattina io in un tocco nazionale ho riprecisato che la BCE non è l'Europa politica, è l'Europa finanziaria, è l'Europa della politica monetaria, a cui la politica ha riconosciuto indipendenza. Ora però la politica sia nazionale che sovranazionale è critica sui comportamenti della Lagarde intesa simbolicamente come Presidente. Ne riparleremo perché è un tema che andrà avanti ancora per tutto il 2023. Io per ora ti ringrazio e lanciamo insieme, ce lo vediamo, un tema che c'è sempre nel nostro format è che è la tecnologia, ricerca, biomedica e farmacologica, 23 milioni per l'innovazione. Vediamo! Dispositivi medici, strumentazioni tecnologiche, vaccini e farmaci per il dolore dei pazienti oncologici. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato il via libera a tre accordi per l'innovazione nel campo della ricerca e del settore biomedico farmaceutico. L'investimento complessivo è pari a circa 23 milioni di euro e coinvolgerà quattro regioni, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il primo progetto, Molecular Interaction Studies through Artificial Intelligence, ha come obiettivo la ricerca scientifica in campo biofarmaceutico e la realizzazione di vaccini e farmaci basati su molecole fotoattivabili più efficaci. Sarà realizzato nelle città di Imola e Siena. Il secondo progetto, Innovative Platform for Translational Research, riguarda in particolare la realizzazione di una piattaforma innovativa basata sull'integrazione di dati di imaging digitale preclinico, dati di biochimica e immunohistochimica e dati clinici e strumentali di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative. Gli investimenti interesseranno le città di Caserta, Napoli e Fisciano. Il terzo progetto punta a sviluppare dispositivi oftalmici per la prevenzione e il trattamento di patologie degenerative dell'occhio, come ad esempio il glaucoma. Gli accordi saranno gestiti da Medio Credito Centrale per conto del Ministero. Giunto il momento della nostra intervista, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui negli studi di Milano, Andrea Santagata. Buongiorno, grazie a lei che è venuto a trovarci, amministratore delegato di Mondadori Media per i brand digitali e il polo MarTech. Allora siccome qui traduciamo tutto, gli agronomi, le sigle eccetera eccetera. Cos'è sto MarTech? Cos'è sto MarTech? Beh insomma vuol dire sta per marketing e tecnologia, no? Quindi vuol dire che, lo traduco un po' per quello che ho capito io, che oggi nel marketing si usano degli strumenti di tecnologia avanzata per raggiungere gli obiettivi. Quindi è più solo marketing inteso come intuizione, qui vengono molti esperti di marketing, di agenzie deputazionali, di agenzie di comunicazione, vuol dire che si usano degli strumenti diversi che dal passato. Ma se ce lo spiega lei è meglio di me. Prego. Ce ne sono tanti, ma diciamo il marketing e la pubblicità tutti vogliono raggiungere il target giusti, no? Quindi ad esempio adesso si usano i famosi dati, da cui ci sono tutte le polemiche per la privacy eccetera, per cercare di mandare soprattutto in internet le pubblicità profilata alle persone giuste. Oppure ci sono il marketing di prossimità che usa tecnologie per capire se il nostro cellulare è vicino a un supermercato e farci arrivare un messaggio che dice e guarda che c'è l'offerta al supermercato in questo momento. Certo. Allora, però insomma... Tecnologia al servizio della pubblicità per essere più efficaci nella comunicazione. Ecco, siccome è una branca del gruppo Mondatori, insomma che ha avuto nel 2022 successo economico, leggo, ricavi in crescita del 39%, e 2023 come sta andando? Anche in 2023 stiamo andando con crescite double digit, noi essendo il gruppo Mondatori una società quotata non possiamo mai dichiarare durante, però diciamo crescite importanti, l'advertising in Italia ha qualche punto di crescita, il mercato invece dell'advertising internet sta crescendo, è cresciuto del 6% e noi invece siamo double digit proprio grazie a un'offerta che è molto basata sia sui social da una parte, quindi i nostri grandi brand come Giallo Zaffrano, My Personal Internet e altri sono diventati leader nei social e dall'altra proprio nel Martek, quindi soluzioni in cui aiutiamo le aziende a raggiungere i propri obiettivi usando tecnologie innovative. Allora visto che li ha citati, io voglio andare subito all'intelligenza artificiale, però ce la teniamo dopo perché merita anche oltre che una riflessione tecnica, se me lo concede anche una riflessione etica, no? Sì. E non sappiamo neanche dove può arrivare. E quanto si usa lei, no? Però questo ce lo faccio a parte, visto che ha citato le partnership di Mondatori con Giallo Zafferano e la Talent Agency Zenzero. Che cos'è la Talent Agency Zenzero? Sì, cosa abbiamo fatto? Noi diciamo uno dei brand... Giallo Zafferano lo conosciamo, ma la Talent Agency che vuol dire? Vabbè, quindi noi avevamo Giallo Zafferano che, non so se si sa, ma è il quinto brand più importante al mondo come media food. Sì, sì, sì. Ma questo lo sapevo, sapevo anche come era nata, che era molto rudimentale, molto affascinante. E quindi cosa abbiamo aggiunto? Ci siamo accorti con l'avvento di TikTok, Instagram, che i creator, diciamo gli influencer, ma quelli più che creano proprio contenuto nelle piattaforme social, stanno diventando nel food molto importanti. Abbiamo iniziato a collaborare con loro, con Giallo Zafferano, iniziando a farne delle firme di Giallo Zafferano e poi abbiamo aperto con loro una Talent Agency in cui li gestiamo, sono anche soci i principali di loro, cosa che è inusuale. E insieme costruiamo progetti per comunicare con le aziende sui social tramite questi clienti. Senti, visto che la parola social è tornata spesso in queste prime sue risposte, ed è un linguaggio, lo diciamo, per proprio molto importante. Noi quando oggi parliamo del web confusamente dobbiamo un po' distinguere il web tradizionale dai social, dalle varie piattaforme social che permettono, diciamo così, di raggiungere un destinatario forse più giovane, probabilmente, c'è un tipo di destinatario che forse va solo sui social, questo me lo dividere, questa è la domanda che volevo fare, che probabilmente in certi campi della nostra economia, del nostro business, sono diventati essenziali, è così? Così perché quando si parla di internet si è in mente i siti web, il browser, si va su Google, ma cosa si sono aggiunti? Due cose, un lato le app, perché usiamo anche tantissime app, e poi i social, perché quando usiamo i social fruiamo di tantissimi contenuti, che sia Facebook, che sia YouTube, Instagram e adesso TikTok, e soprattutto i giovani, se vogliamo si può dire che su Facebook ci stanno i 40-50 anni, su Instagram i 30 anni e se vuoi raggiungere i 20 anni su TikTok, YouTube è trasversale, quindi sicuramente sono un media nel media. Certo, ma i 20 anni sono affascinati dal mondo dell'agroalimentare, noi insomma tra poco lanceremo il nostro, se abbiamo avuto questa intuizione, in ogni puntata abbiamo un servizio sul tech e abbiamo un servizio sull'agri-food, quindi insomma e lo lanceremo insieme, ma i 20 anni per esempio sono affascinati da questo tema, i millennials sono un po' più grandi, sì, però insomma i 20 anni. I video visti di food sui social sono paragonabili video visti di sport, per darci un'idea, quindi tantissimo, su tutta l'età, la pandemia ci ha un po' reso tutti ancora più, ci ha costretto a diventare chef e quindi ci siamo avvicinati anche a cose a cui prima non ci avvicinavamo, tipo la panificazione, chi è che si faceva il pane in casa ormai? Quindi sì, ci siamo sempre più, e siamo legati tantissimo alla tradizione, poi se volete vi racconto quali sono le 10 ricette più cercate dagli italiani, la prima non è italiana, è difficile da trovare, sono i pancake, quindi la prima ricetta più cercata sono i pancake, poi c'è il tiramisù, ci sono la torta di mele, ci sono tutte le grandi paste romane, quindi la matriciana, la carbonara, la caccia e pepe, poi c'è chiaramente il pesto, c'è il ragù che non può mancare, il ragù è una grande tradizione, soprattutto il ragù bolognese, c'è la parmigiana, tutti i piatti abbastanza corposi e tradizionali, e poi si stanno aggiungendo da un po' di anni un nuovo filone su tutti i piatti etnici e anche su tutti i piatti legati ai legumi, perché si vuole magari un po' abbandonare la proteina animale della carne, anche per ragioni orientali. Io le faccio questo esempio, l'ho visto che i miei figli in vacanza eravamo in un posto insomma abbastanza conosciuto e sono andati a prendere da sport il poke, mi ha colpito e su internet hanno composto il loro voce, io mi sono perso perché hanno una domanda su quello che volete, mi ha detto guardate questo poke, lo mangiamo e buona notte, però ho visto una maniacalità, l'autocomposizione, la cucina cinese sta iniziando a prendere un po'. Non ho fatto marchi, non credo che abbia fatto pubblicità a nessuno, po' che assolutamente non è un marchio, è un tipo di composto. Probabilmente si pensa che sia, in realtà è huaiano come una parola huaiano vuol dire fare pesi, è vero, uno pensa che sia una cosa asiatica che venga dall'Asia, lo avviciniamo a volte alla fusion, alla cucina fusion e invece è huaiano. Senta, quali sono i settori in questo campo in cui vi allargherete e investirete ancora? Siamo molto forti nel nostro media, siamo molto forti nella cucina, quello che ora stiamo facendo anche per aiutare le aziende italiane ad andare all'estero, è uno sviluppo molto forte già allo zafferano sull'estero, c'è un fenomeno veramente importante che ha Ambrosetti sui 8 anni che è quello dell'Italian Sounding, sono tutti quei prodotti che sembrano italiani e non lo sono, per darvi un'idea pesa quanto l'esportazione dell'agri-food italiana intera all'Italian Sounding. Ma che cos'è come fenomeno? Perché io per esempio lo affronto in altri campi quando dice non made in Italy ma made by italics, l'italici per esempio in America sono 50 mila euro. È il parmesan o il pestolo e queste cose qui che sono fatte da cose locali fatte male ma suonano italiane e quindi non si vende il prodotto italiano e si vendono questi prodotti di serie B che ci mangiano. Sa che i puristi del made in Italy non ridiscono di fronte a queste cose? Purtroppo però ci sono tanti nel mondo che invece ci cadono, quindi su questo noi stiamo lavorando tanto, poi altre cose su cui la Mondadori sta lavorando molto nell'ambito media e digitale sono tutto la salute e il benessere che è un grande fenomeno con My Personal Trainer e poi tutta la comunicazione alla generazione Z e ai nuovi valori della generazione Z che poi credo siano ormai i valori della nuova società, la diversity, l'inclusione, la sostenibilità ambientale. Certo, senta torniamo al discorso della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, se ne fa una grande discussione, io devo dire me ne sono occupato spesso con l'aiuto dei giornalisti economici, ho cercato di vederlo in modo laico, dico che oramai è una di quelle maree che non si può più fermare, però non la si può fermare ma forse la possiamo gestire, quindi lei è più affascinato delle possibilità, delle potenzialità o un po' preoccupato di quello che ci può togliere a noi come diciamo homo sapiens lavorativi? Io sono sempre affascinato perché alla fine l'innovazione ha sempre portato l'umanità avanti, si è sempre avuto paura, quando sono nate le cose a vapore si pensava di perdere il lavoro, lavoro nei campi e poi lavoro nelle fabbriche, quando c'è stata l'ottimazione delle fabbriche, quando è arrivato internet si pensava che sarebbe scomparso alcuni settori, adesso arriva l'intelligenza artificiale e ci porto ulteriormente avanti, alcune cose cambieranno perché è chiaro che chi ha usato ChatGPT, l'intelligenza artificiale generativa, si accorge che alcune cose si riescono a fare facilmente senza usare l'uomo, ma io penso che l'uomo... Purtroppo anche molti articoli giornalistici, lo dico, perché anche nel nostro settore c'è già la discussione fra l'uomo e la macchina... Si toglie le cose base di ripetitività, è come dire che non staremo più nei campi alla fine dell'Ottocento perché finalmente per fortuna arriva un trattore all'inizio del Novecento iniziano delle macchine a fare le cose che faceva l'uomo, ma l'uomo non ha smesso e ora non è che in agricoltura si produca meno di prima e quindi io credo che invece l'intelligenza artificiale come tutte le tecnologie sia un passo avanti, è chiaro che va saputo gestire come tutte le tecnologie, se pensiamo al fordismo, a quello che ha portato anche di negativo, tutto lo sfruttamento che c'è stato con la rivoluzione industriale abbiamo dovuto fare nuove leggi, è cambiata la società, però superate la fase di crisi che mette e poi quello che ha portato è sicuramente positivo, io credo che sarà la stessa cosa come è stato per internet come è stato per la televisione quando è arrivata, io mi ricordo quando ero giovane, piccolo la televisione ci peggiorerà tutti, non credo che ad oggi si possa dire che la televisione ci abbia peggiorato la faccio da più di 30 anni e sostengo invece che è un medium, se lo vogliamo usare, insomma a singolare che poi alla fine ha avuto il suo valore nella società certo questo è il fatto che questa volta si chiami intelligenza ci entra un po' più perché sembra più umano l'intelligenza artificiale guardi uso per la prossima domanda, la penultima vede che il tempo se ne va veloce un filosofo che amo molto, che lei conoscerà, che si chiama Floridi che ci ha parlato della categoria dell'infosfera e ci ha detto che in fondo lo sviluppo delle ICT che riguarda anche l'intelligenza artificiale, Information, Communication, Technology noi traduciamo tutti gli acronimi, è a un livello tale da essere su un punto di non ritorno per l'umanità è una rivoluzione industriale e culturale diversa dalle altre perché potrebbe essere definitiva in quanto cambia alcune cose che sono proprio della matrice dell'uomo non solo la parola intelligenza ma anche alcune funzioni che mentre le altre rivoluzioni erano importanti ma ancora parziali questa può essere definitiva, questo è l'approccio filosofico ma io mi aggancio ancora a Floridi per fare la prossima domanda perché Floridi dice che nell'infosfera noi siamo in una specie di tormento di tornado della comunicazione, di un eccesso di comunicazione con segni che vengono immessi dall'uomo ma anche dalle macchine quindi da qui le fake news o il non controllo del concetto di verità poca di questa comunicazione diventa informazione quindi esperienza cerebrale, individuale, autorevole e qui dobbiamo discutere della funzione dei professionisti della comunicazione in parte lo sono io, in parte lo è lei e allora su questo lei è attratto professionalmente da questo tema della distrazione siccome in questo eccesso della comunicazione vedi che l'ho presa alla larga tanti messaggi, tanti segni, tanti segmenti, c'è un caos allora come si fa a raggiungere meglio il target di riferimento in questa specie di infosfera le piace come glielo presa? sì, allora intanto una domanda quasi di tre minuti fino alla fine come anche nei romanzi qua l'assassino lo devi scoprire subito perché tu mi devi attrarre in pochi secondi e fare l'inverso poi farmi approfondire quindi un po' è technicality un po' è adeguarsi e un po' è combattere in questo bombardamento informativo in cui anche la quantità conta però alla fine io credo che la qualità continua a emergere quindi continuare a far bene il proprio mestiere dando una vera differenza con brand riconoscibili e con qualità di quello che si fa certo senta, qui leggo perché non voglio sbagliare lei è anche membro del CDA di Ad Kaora con la K una società del gruppo Mondedori specializzata in mobile advertising e marketing di prossimità Ad Kaora ha raggiunto il 100% di una società spagnola dello stesso settore innanzitutto prima di chiedere però le potenzialità del mercato spagnolo e estero lei mi spiega che cos'è il mobile advertising marketing di prossimità l'ha detto prima mobile advertising è molto semplice ormai quando si dice web digitale si parla di cellulari perché alla fine tutti noi usiamo degli smartphone l'85% di quello che vediamo è tramite smartphone la pubblicità si è adeguata a stare dentro gli smartphone quindi quando si parla di mobile advertising è la pubblicità che si è adeguata come formati, come linguaggi e come tecnologie a stare dentro gli smartphone Spagna ha citato è un'altra delle frontiere andare all'estero ci stiamo andando con Giallo Zaffrano per delle cose ci stiamo andando con le nostre suzioni di Martek la Mondadori vanca all'estero abbiamo iniziato dalla Spagna con questa piccola acquisizione una società di 15 persone per portare le nostre soluzioni iniziando dalla Spagna ma la Spagna sappiamo che anche spesso lo sbocco per il Latin America il Sud America proviamo non è vero che in Italia non c'è la qualità anche nel digitale è una tecnologia per competere nei mercati esteri proviamoci e sono sicuro che ci riusciamo no io credo che il nostro paese ha bisogno di investimenti dobbiamo usare i soldi del PNR su questo dobbiamo raggiungere la democrazia digitale nei nostri territori eccetera eccetera ma in quanto a intelligenza e capacità di innovazione anche delle nostre aziende insomma via non siamo secondi a nessuno possiamo dirlo sono d'accordo perché lei oggi rappresenta un'azienda importante che è Mondadori nella branca specifica che lei rappresenta ma insomma vale un po' anche per la buona parte delle nostre aziende che spesso vengono confinate nel vittimismo e poi scopriamo che sono quelle che reggono con la loro capacità anche beh nell'agroalimentare che c'è tutto prima nella moda nel design reggono in piedi il nostro PIL assolutamente quindi manca la nostra immagine di prestigio nel mondo insomma allora grazie di andare a Sant'Agata grazie a lei spero che la chiacchiata le sia piaciuta spero che sia piaciuta spero che sia piaciuta al pubblico insomma abbiamo detto tutto con grande chiarezza questa è una cosa per me importante amministratore delegato l'ho detto prima delegato e oggi evidentemente mi sono mi ha desimato nella Spagna esatto perché c'è un'altra Spagna quindi penso perché oggi oggi sono delegato va bene amministratore delegato di Mondatore Media per i brand digitali il polo Martech e ora ci vediamo insieme in un servizio che riguarda l'agri-food precisamente via libera al fondo per l'innovazione una notizia importante in agricoltura via libera al fondo per l'innovazione in agricoltura per favorire lo sviluppo di progetti finalizzati all'aumento della produttività nel settore agricolo della pesca e dell'acquacoltura l'obiettivo è implementare la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa l'intesa è stata raggiunta in conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida assieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo istituito con la legge di bilancio 2023 è prevista quindi una dotazione di 75 milioni di euro per il 2023 2024 e 2025 di cui 10 milioni di euro per quest'anno 30 milioni di euro per l'anno prossimo e 35 milioni di euro per il 2025 destinati alle imprese ubicate nei territori colpiti dalla recente alluvione le attività di istruttoria concessione dell'erogazione monitoraggio e controllo saranno effettuati da Ismea gli interventi finanziati attraverso il fondo vengono concessi esclusivamente come contributi a fondo perduto e diretti per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti bancari erogati sulla quota parte dell'investimento non coperta dal contributo a fondo perduto è tutto per questa puntata come sempre ricchissima è dita al press economy appuntamento al prossimo venerdì per ora è tutto grazie per averci seguito grazie per averci seguito